benvenuti in alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi un podcast della psicanalista laura pigozzi www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it e così siamo arrivati a questo argomento spinoso dei baci sulla bocca è un'abitudine nuova per la nostra cultura forse in altre culture si usa ma per la nostra è un'abitudine del tutto nuova così come il dire ai bambini ti amo invece che ti voglio bene ora la lingua italiana e quindi vuol dire cioè il raffinato bagno culturale in cui siamo nati in cui siamo nati distingue i due tipi d'amore filiale e coniugale e quindi il ti voglio bene destinato ai figli e il ti amo destinato ai partner dire ti amo a un bambino significa confonderne i punti di riferimento allora perché poi stupirsi come mi è successo una madre che mi ha detto no ma come dice ti amo alla maestra certo perché a quel punto il bambino è confuso quindi dire ti amo a un bambino significa confonderne i punti di riferimento e questo questa madre molto angosciata perché ha sentito il bambino dire ti amo alla maestra oppure un'altra che ha visto il bambino correre incontro alla maestra e abbracciarla come fa con lei era molto perturbata da questo molto turbata da questo quindi occorre effettivamente stare attenti a quello che facciamo con i figli con il loro corpo il loro corpo non è nostro allora bisogna distinguere gli ambiti e la parola che ha una funzione umanizzante deve essere usata con criterio quindi non con indistinzione non che simbiotizzi le situazioni le situazioni ma e che tolga soprattutto i figli dal ruolo di oggetti di soddisfazione sono comportamenti che serpeggiano come un virus ad alto contagio ci sono stati sui social molti influencer cantanti calciatori ora tutti abbiamo visto credo le foto della ferragni di della pausini di beckham no tutti hanno presente queste foto in cui loro baciano per esempio sulla bocca i loro figli allora questo questa diciamo comportamento si può pensare forse che per esempio la figlia tredicenne dell'ex calciatore come potrà elaborare un super padre che la bacia sulla bocca perché non c'è questo segno della differenza di confine tra generazioni quindi ora tra l'amore filiale e l'amore passionale tra l'amore per i genitori e l'amore per un compagno non c'è un continuum perché altrimenti ricadiamo della dipendenza affettiva di cui abbiamo parlato nella prima nella prima puntata la dipendenza affettiva noi dobbiamo capire che nasce in famiglia e nasce anche da questi comportamenti comportamenti che creano che creano dei dipendenti affettivi perché perché la dipendenza affettiva quando nasce la dipendenza affettiva quando non c'è confine quando non c'è separazione quando una generazione non è distinta da un'altra allora dire se io dico a mio figlio ti amo e lo dico e lui sente che lo dico anche a suo padre questo non lo aiuta non gli permette di elaborare che cosa è l'amore gli fa una grande confusione e quindi l'amore filiale l'amore passionale vanno distinti perché altrimenti ci si ritroverà a cercare nel partner un sostituto del genitore e quindi ad avere una relazione con lui di tipo sadomasochista in qualche modo cioè una relazione con un genitore che dato che non è un genitore ci controlla e ci in qualche modo si entriamo in una relazione di dipendenza ci fa diventare dipendenti quindi distinguiamo il ti amo dal ti voglio bene distinguiamo il bacio sulla bocca che si dà al compagno e il bacio sulla guancia che si dà o sulla fronte o sulla testa che si dà al bambino distinguiamoli perché così il bambino comincia ad avere delle coordinate sull'amore e non fa confusione quindi tra l'amore per i genitori e l'amore per un compagno o per una compagna non c'è una linea che congiunge una stessa linea c'è un taglio senza taglio noi non cresciamo senza taglio non ci differenziamo senza taglio siamo nella notte in cui tutte le vacche sono nere come dice Hegel senza taglio non abbiamo la possibilità di separarci dai nostri primari oggetti di godimento il seno la madre i genitori uscire di casa ogni sviluppo è lasciare la famiglia ogni formazione è uscire di casa quindi tutto questo non aiuta perché fa confusione perché si crede che l'amore fuori nel mondo e l'amore dentro in famiglia sia un continuum sia uguale e molte unioni oggi crollano proprio perché non c'è stata questa distinzione e così le giovani coppie sono invase dalle pretese dei genitori degli uni degli altri abbiamo la maggior una della grandissima parte delle separazioni da qualche parte ho anche il dato che poi magari vi dirò in un'altra puntata tra coniugi è dovuta all'invadenza dei genitori è chiaro che è un genitore che ha avuto il figlio come suo che l'ha baciato come un partner sulle labbra che gli ha detto ti amo poi a questo genitore risulta difficile capire che il figlio se n'è andato e che un altro gli dirà ti amo un altro lo bacerà sulle labbra e quindi abbiamo genitori che invadono continuamente queste giovani coppie ed è questa è una delle prime cause di separazione c'era una figlia che raccontava tutta la sua giornata la madre lontana compresi alcuni dettagli intimi della vita di coppia questa è una persona che appunto è venuta a raccontarmi ma ce ne sono migliaia di queste situazioni e con l'alibi di tenere compagnia alla genitrice anziana e le la invadeva di messaggi un giorno forse forse in questo caso per placare il proprio senso di colpa per essere andata a vivere lontano come se fosse una colpa si va a vivere lontano un giorno ricevo una madre e che è preoccupata dell'attaccamento di sua figlia a lei e del chiederle continuamente di essere presente a tutti i momenti della sua vita e quindi facciamo naturalmente la storia di questa famiglia e beh naturalmente viene fuori che questa bambina ha dormito con la madre fino ai sei anni quindi capite che siamo in una simbiosi che non si è mai veramente dissolta le chiedo così curiosamente per curiosità quanti messaggi oggi vi siete scambiate erano 102 messaggi in una giornata dove c'è il tempo per vivere dov'è il tempo per vivere allora l'uomo ha inventato i simboli proprio per orientarsi nella vita e ha trovato i gesti rituali per comunicare il bacio è proprio un gesto rituale lo ritroviamo nel quotidiano con significati diversi con un bacio insomma noi facciamo un discorso facciamo un discorso la cui sintassi dipende dal tipo di bacio purtroppo per esempio se io bacio un figlio sulla bocca non faccio un discorso materno non faccio un discorso paterno ma faccio un discorso confuso un discorso che genera confusione ora non occorre neanche forse scomodare Freud per ricordarci quanto la bocca sia una zona erogena dalla suzione del neonato come abbiamo visto in una delle puntate precedenti al sesso nell'adulto passando appunto per il bacio e una cosa con una cosa voglio sottolineare che quando la perversione si traveste da innocenza diventa potentissima grazie avete ascoltato un episodio di alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicanalista laura pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi scrivi a laura pigozzi tutte le informazioni in www.laura pigozzi.com www.laura pigozzi.it